L'esport abruzzese nel 2023 ha registrato un incremento del 13,6%, raggiungendo un valore di 3 miliardi e 600 milioni di euro. Un risultato positivo che posiziona l'Abruzzo al quarto posto nella graduatoria nazionale. Lo dice lo studio realizzato da Aldo Ronci per conto di CNA, Artigiani Imprenditori d'Italia, Sezione Abruzzo, sui dati dell'Istat e di CoeWeb. Tuttavia, se si analizza il quinquennio 2018-2023, la crescita dell'esport abruzzese è stata soltanto del 14,9%, la metà di quella nazionale, che si attesta al 34,6%. Questo significa che l'Abruzzo è al terzultimo posto in Italia, prima soltanto di Val d'Aosta e Basilicata. I settori trainanti dell'esport abruzzese sono i mezzi di trasporto e il farmaceutico, che insieme hanno contribuito per oltre il 50% del totale. Le altre produzioni hanno registrato una crescita complessiva del 2,6%. In particolare, i prodotti alimentari hanno segnato un aumento del 7%, il tessile e l'abbigliamento del 21% e gli articoli in gomma e plastica del 4,3%. Le variazioni dell'esport nelle province abruzzesi sono state disomogenee. Chieti ha registrato un aumento di 647 milioni di euro, l'Aquila di 301 milioni, Teramo di 178 milioni e Pescara di 83 milioni. In termini di completezza e versatilità delle produzioni si distingue la provincia di Teramo, con importanti incrementi nella farmaceutica, nei prodotti tessile e abbigliamento e nei prodotti alimentari. Nonostante il segno positivo del 2023, resta ancora molto da fare per recuperare il terreno perduto nel medio periodo. L'Abruzzo deve puntare su una maggiore diversificazione delle sue produzioni e su una più incisiva promozione del Made in Abruzzo sui mercati internazionali.